Nel suo personal computer aveva migliaia di cartelle con documenti di bambini nudi anche in tenerissima età, protagonisti di scene sessuali, immagini raccapriccianti, della Shaz Gomenti, in manette a Rimini, finito un pasticcere di 59 anni, arrestato con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. L'uomo è finito nel mirino della polizia postale nell'ambito dell'operazione Black Weist. L'indagine portata avanti dagli investigatori di Venezia vedrebbe proprio a Rimini, uno degli snodi fondamentali dello scambio, in rete di foto raccapriccianti di violenze sui bambini. Quando gli inquirenti hanno bussato nell'appartamento riminese del 59enne, nella mattinata di mercoledì, il computer dell'uomo era già acceso e stava scaricando dal web centinaia di foto e filmati osceni che avevano come protagonisti dei minorenni. Secondo quanto emerso, il pasticcere frequentava diversi forum e sul suo personal computer aveva installato dei programmi per la condivisione dei file che macinavano giga e giga di dati per scambiare immagini e video con una rete di altri pedofili. Allo stesso tempo gli inquirenti avrebbero trovato nell'hard disk del 59enne migliaia di cartelle con all'interno documenti agghiaccianti di bambini nudi, sia maschi che femmine, anche in tenerissima età, protagonisti di scene sessuali, piene di brutalità e di orrore per il riminese che in passato era già finito nei guai per gli stessi motivi. Sono scattate le manette e il sequestro di tutto il materiale informatico. Ora gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la rete dei pedofili di cui l'uomo faceva parte.